Mercoledì 1 maggio la breve scossa di terremoto in Val Pescara di magnitudo 2.6 con epicento a scafa ha creato una certa apprezzione tra gli abitanti della zona. Il fenomeno sismico ha avuto un effetto immediato sui cittadini residenti nel comune della Val Pescara che hanno chiesto informazioni. Si cerca, ha sottolineato il professor Francesco Stoppa, vulcanologo dell'Università d'Annunzio, un riferimento anche alla luce di scosse di bassa entità. Io ho ricevuto moltissime chiamate e anche messaggi ieri sera di cittadini che mi domandavano soprattutto se fosse possibile un'evoluzione di questo fenomeno perché in realtà questa scossa che viene data a magnitudo 2.6 quindi molto modesta, inoltre a una profondità di 20 km quindi una scossa profonda, relativamente profonda, in realtà è stata avvertita molto bene soprattutto come una sorta di boato e una vibrazione. Quindi le persone l'hanno percepita come un colpo di cannone, l'hanno descritta come il crollo di un edificio o un camion che avesse sbattuto contro la casa. La terra infatti ha tremato pochi secondi e nei piani alti delle abitazioni si è avvertita nettamente da Torre dei Passeri a Tocco da Casauria, in molti si sono anche riversati in strada. Anche se è durata pochissimo è stata avvertita da moltissime persone fino a Chieti. Questo ci fa capire come anche una piccola scossa in realtà possa allarmare la popolazione. In questo caso diciamo che la sismicità locale della zona di Scafa all'anno San Valentino in realtà in genere risente fortemente dei terremoti della Maiella. In questo caso non c'entra con i terremoti storici della Maiella perché è un terremoto profondo. Quella di Scafa, aggiunto infine il professor Stoppa, è una scossa con aspetti sismici molto interessanti in quanto si tratta di un luogo relativamente nuovo. Qualche precedente c'è, però ritengo che una scossa isolata come questa di bassa magnitudo in realtà non sia un precursore di un'attività più intensa. Però diciamo che la zona è sismica. Grazie. Grazie. Grazie.